Buongiorno a tutti, io sono Claudio Panerai, sono il responsabile tecnico di ACAB. Oggi parliamo di come ripristinare un volume da un backup in pochi secondi, naturalmente con APASURE. Quello di cui discuteremo oggi non è una demo completa del prodotto, avete tonnellate di video che sono presenti sul nostro sito web, per cui potete vedere tutte le caratteristiche e i video che volete, ma andiamo ad affrontare in maniera precisa, puntuale e veloce, così vi rubo poco tempo, questo particolare problema, quando perdiamo un intero disco o un'intera partizione. Come voglio affrontare questa chiacchierata con voi? Voglio andare a capire qual è il problema del backup o i problemi del backup in queste circostanze, quali sono le non soluzioni che normalmente vengono adottate e purtroppo le conseguenze delle non soluzioni, andare poi a vedere qual è la soluzione di APASURE e quali sono i benefici di adottare APASURE come soluzione di backup e restore. Andiamo quindi subito all'inizio della nostra chiacchierata. Io spesso ho fatto questa domanda alle persone, che cosa manca al tuo backup attuale, quale che esso sia, non lo voglio sapere qual è, per essere perfetto. Le risposte ovviamente sono diverse, però ce ne sono un insieme di cose che sono venute fuori. Il restore e il backup durano tanto, se avete tanti dati da salvare e non avete un sistema particolarmente intelligente, fare un restore o fare un backup può durare tanto tempo. Un'altra cosa che ho sentito spesso è che durante le operazioni di restore gli utenti sono fermi, è ovvio questa cosa qui, se però ci metti 4 ore, 10 ore a ripristinare una macchina o un sistema, gli utenti sono fermi per 4 ore o 10 ore o addirittura qualche giorno. E questo vuol dire tempo e questo vuol dire soldi. Nei casi in cui non ci siano situazioni critiche in cui c'è tutta l'azienda, abbiamo però visto dall'esperienza che spesso i backup fatti con altri sistemi magari funzionano, però sono vecchi di n ore, di 24 ore, di 12 ore e in alcuni casi significa tante ore di lavoro o perso. Pensiamo a un commercialista con le scadenze o un'azienda di produzione, alla produzione che deve ricominciare come erano i sistemi 12 ore prima. Spesso questo è un grosso problema. Oppure ancora che la certezza che i dati siano leggibili è un problema grossissimo perché quasi nessun sistema di backup ti garantisce di poter rimettere in piedi il tuo SQL, il tuo exchange, il tuo small business server o anche semplicemente che il tuo disco che hai salvato ha una partizione leggibile. Quasi nessuno lo fa. Come si fa a fare queste cose? Purtroppo in genere non sono funzioni che si aggiungono alla release 12.8 di un software di backup qualunque, cioè non basta una nuova versione, serve proprio un nuovo sistema di backup, un nuovo concetto di backup e mi viene a dire che con Appashure la vera novità del backup in realtà è nel restore, perché fare il backup lo fanno tutti, la vera novità è il restore. Quindi in estrema sintesi mi viene a dire che Appashure fa tutto ciò che manca ai normali software di backup. Ebbene, perché non si adottano soluzioni di backup che facciano cose impossibili? Perché non si possono fare dei restore che rasentano l'impossibile? Per esempio un restore che permetta agli utenti di lavorare durante le operazioni di restore? E non si fanno perché appunto bisogna aspettare che un processo sia finito. In tutti i restore del mondo è necessario attendere le operazioni e solo dopo gli utenti possono accedere ai dati. Oppure perché non siamo certi del backup dei dati? Perché dovremmo aprire a mano tutti i backup e fare a mano delle verifiche sui dati e questo non esiste semplicemente. Oppure ancora è impossibile fare dei restore al volo di sistemi complessi come Exchange perché sono sistemi delicati, articolati, intrinsecamente agganciati all'active directory e al Windows sottostante. Ebbene, tutte queste cose sono vere per i normali sistemi di backup mentre non diventano più vere se uno utilizza un sistema di backup di nuova generazione. Quali sono le conseguenze di non scegliere un backup di nuova generazione? Sono diverse. Io ho visto diverse aziende in cui gli utenti continuano a lamentarsi che i dati non sono disponibili. Gli utenti dicono sì, ho capito che sono cresciati i sistemi ma io non posso lavorare, non gliene frega niente delle difficoltà dell'IT. Le aziende quindi perdono tempo e denaro se devono andare a ricreare documenti creati n ore dopo l'ultimo backup. Recente è stato un caso a ottobre di un'azienda dell'Emilia Romagna dove aveva un sistema di backup che funzionava perfettamente. Faceva il backup una volta ogni 24 ore, lo faceva alle 23.30 della sera. Verso le 4 del pomeriggio hanno avuto un problema abbastanza grave, hanno chiamato i loro tecnici e hanno detto riprendeteci i nostri backup e rimettete tutto a posto. Hanno ripreso e rimesso tutto a posto ma con le informazioni delle 23.30 del giorno prima. E gli hanno detto noi non possiamo lavorare così. Aver perso un'intera giornata di lavoro è troppo, costa troppi soldi. Quindi sintesi le conseguenze di una non soluzione d'avanguardia sono tempi lunghi di ripristino, personale insoddisfatto e se non ci interessa del personale, azienda che perde tempo e quindi soldi. Ulteriori conseguenze è che un cliente che subisce un danno pensa che non esista la soluzione di avere un backup o meglio un restore ultra veloce. Prima o poi scoprirà che esiste perché lo trova su internet, perché lo dice un suo amico, perché un altro fornitore o consulente gli dà una soffiata e quindi scoprirà che esiste un'altra soluzione, dubita della mia competenza come consulente o se non dubita della mia competenza però un filo meno di fiducia viene perché dice come, perché non mi hai messo una soluzione di backup d'avanguardia. Quindi queste possono essere chiamate un po' di conseguenze filosofiche del non aver adottato un super backup o meglio un super restore strepitoso. Che cosa offre Appashure come soluzione? Appashure offre una protezione continua, ossia io vado a proteggere i miei sistemi client o server fisici virtuali, per esempio ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora, ogni venti minuti, quanto voglio io, in che maniera? Facendo una protezione dell'intero sistema, tramite un meccanismo intelligente di snapshot, Appashure va a vedere quali sono i blocchi di disco modificati e quindi fa degli snapshot solo sui blocchi di disco modificati, quindi sono molto veloci e occupano poco tempo e poco spazio su disco. Questo non è sufficiente perché Appashure è in grado di capire l'applicativo che gira sulla macchina, per esempio SharePoint, per esempio Exchange o SQL Server, quindi da solo attiverà tutte le procedure necessarie a salvare in maniera intelligente quell'exchange, quindi userà il VSS, quindi farà la troncation log e tutto quello che servirà a fare come buon amministratore di exchange. Inoltre Appashure ci darà la garanzia del restore, perché sia che io salvi un volume di disco normale, quindi diciamo così un disco NTFS, Appashure farà un check per vedere se quel disco è montabile dopo il backup. Se salvo un exchange, Appashure farà un test di restore di tutte le mailbox e mi metterà il bollino verde e dirà questo server può essere ripristinato. Se salvo dei SQL Server farà un check di restore di tutti i database e delle tabelle e mi dirà vai tranquillo questo backup può essere ripristinato o viceversa mi dirà che il backup non può essere ripristinato. Quindi ho la garanzia che i dati backupati siano ripristinabili. E poi ogni snapshot che facciamo, benché sia solo l'insieme di blocchi di disco modificabili dell'ultima volta, in realtà ogni snapshot, ogni recovery point, contiene tutto. Quindi io in ogni momento, se proteggo la macchina ogni quarto d'ora o ogni mezz'ora, posso andare a recuperare tutto quello che voglio ogni quarto d'ora o mezz'ora. Se mi serve solo i file, recupero i file. Se mi serve solo la cartella, recupero solo la cartella. E se invece mi serve un'intera partizione, posso andare a recuperare l'intera partizione. Se invece mi serve l'intera macchina, vado a recuperare l'intera macchina. Quindi ho, diciamo così, degli enormi blobboni, degli scatoloni che potenzialmente contengono tutto, ma mi permettono di andare a recuperare veramente solo i pezzi che mi servono. Dal singolo file all'intera partizione a una singola mail di exchange. Decido io quello che devo andare a recuperare. Adesso, bando alle ciance, vogliamo provare a vedere in pratica, e voglio rubarvi il meno tempo possibile, quindi voglio darvi la possibilità di vedere come si possa fare un restore estremamente veloce con Apashure. Per fare questo mi avvalgo ovviamente di una macchina, questa qui è una macchina che ha due dischi, un disco C e un disco D, che è protetta con un server, ovviamente, Apashure. Questa è l'interfaccia del mio server Apashure, questa qui è la macchina che sto andando a salvare, e andrò quindi a fare, a simulare un danno. Per simulare questo danno andiamo a formatare una partizione di quella macchina e quindi gli utenti non avranno più accesso ai dati. Poi sperando che la legge di Murphy non colpisca, andiamo a vedere come si faccia un ripristino di queste dimensioni in tempo reale con gli utenti che possono lavorare subito. Allora, dicevo, questo qui potrebbe essere un mio server, il disco C ci sta il sistema operativo e il D è una partizione dove ci stanno i dati, ci sono file XLS, immagini, poi da qualche parte ci saranno fare dei video, tutto quello che volete. Ebbene, io vado a formattare questo disco, ci metterà qualche istante, naturalmente, a seconda della dimensione, naturalmente mi auguro che voi non facciate questo sui vostri sistemi, ma è solo per scopi di demo, quindi ho un disco completamente vuoto, ho perso quella partizione o quel volume. Quello che dobbiamo andare a fare è andare a ripristinare i dati, naturalmente a seconda di quanti dati dovete ripristinare ci può volere più o meno tempo. Se io vado allora a prendere questa macchina che sto proteggendo, io amministratore di sistema che usa Appashure dico adesso vado a ripristinare tutto quello che serve. Vado a vedere quali sono i recovery point di questa macchina, cioè i backup o gli snapshot che avevo fatto, ce ne sono un tot e vado a ripristinare per esempio uno di stamattina fatto alle 8.21. Normalmente noi facciamo degli snapshot continuativi sui nostri sistemi di produzione ogni 30 minuti, ma essendo questa una macchina di test non vado certo a fargli di backup ogni mezz'ora. Vado a vedere come è fatto questo backup, ho il disco di sistema C e D, vedete che il pallino grigio mi dice no checks needed, vuol dire che questa partizione può essere rimontata e in particolar modo io devo lavorare sulla partizione D che era 20 giga. Allora come posso fare per fare questa operazione? Gli dico di fare un rollback, di montare la partizione sulla stessa macchina di origine, perché la macchina funziona ancora, il disco C, se no non è un bare metal che devo fare. Mi fa vedere che cosa c'era su quella macchina a quell'ora, quel giorno, il disco C, il disco di sistema, io sono interessato solo a ripristinare il disco D e vedete che è selezionato in automatico la funzionalità Live Recovery. La funzionalità Live Recovery è quella funzione che permette al sistema di iniziare il restore dei dati in maniera ultraveloce come solo Appashore sa fare, ma in più fornisce agli utenti la possibilità di lavorare durante le operazioni di restore, anche se i dati non sono stati ancora ripristinati. Vediamo come fa a funzionare. Lì diciamo quindi di fare un rollback di quell'intera partizione, in questo esempio abbiamo 20 giga di dati, quindi non ci metterà un secondo. Sta partendo le operazioni, andiamo a vedere il monitor delle operazioni, così vediamo anche quanto tempo ci mette. Adesso è pronto con la sua percentuale, ha fatto lo 0%, vedete che il Progress lo sta iniziando a fare 56 mega, 72 mega su 19 giga, quindi ci metterà fisicamente il tempo che ci vuole. Tempo stimato 14 minuti, 16 minuti, che è già un buon tempo. Ma con Appashore, benché sia all'1% solo, con Appashore posso fare un bel lavoro. Se io vado sulla macchina che sto ripristinando, vedete che il disco fisso risulta già pieno? Se gli utenti accedono a questi dati in rete, vedono già tutto, anche se io apro un file. Quindi la vera novità di un sistema di questo tipo è che gli utenti sono assolutamente in grado di lavorare durante le operazioni di restore. Quindi il sistema è stato già ripristinato e reso usabile, benché, torniamo sul sistema di restore, benché le operazioni siano ancora in corso. Se andiamo a vedere nell'elenco degli eventi di Appashore, sarà sicuramente in corso un evento di tipo rollback, cioè un ripristino. Siamo solo al 3%, possiamo andare a vedere il dettaglio. Ecco, siamo ancora al 4%, però gli utenti possono lavorare tranquillamente. Allora, cosa possiamo andare a concludere? Ho visto che già arriva qualche domanda e le domande le facciamo alla fine e poi vi rispondo per tutti, in maniera tale che io riesco a concludere la presentazione, gli argomenti che vi voglio dire e poi andiamo a dare le risposte a ognuno. Fisicamente ci vorrà il tempo che ci vuole al restore, cioè non è possibile bruciare i tempi di velocità della rete, ma è possibile permettere agli utenti di lavorare sui dati che gli servono in quel momento. Allora, quali sono i benefici di una soluzione di questo tipo? I benefici dal punto di vista tecnico è che è facile da usare ed è efficace, cioè come avete visto fare un restore di una partizione di quel tipo non è difficile, basta dirgli di fare un rollback, lui lo fa e tutto funziona come prima. È efficace perché abbiamo messo circa 15 secondi e gli utenti possono già riprendere a lavorare. Da un punto di vista del business dell'utente finale a cui voi andate a proporre i vostri sistemi di backup, c'è poco da dire. Gli utenti finali che adottano questo sistema avranno un sistema affidabile perché i dati possono essere pristinati con certezza e ultraveloce per andare a recuperare i dati. Se invece voi siete dei consulenti IT che fate dei servizi, potete veramente differenziarvi dalla concorrenza e se offrite non solo la licenza ma diciamo così proprio un servizio di backup e restore di questo tipo, la domanda che vi faccio è quanti consulenti o quanti studi di consulenza IT possono offrire dei servizi di restore di questo tipo? Io credo che siano davvero in pochi. Bene, come vi avevo promesso io vi ho rubato solo 20 minuti del vostro tempo perché il vostro tempo è prezioso e quindi non voglio rubarvene altro ma ci tenevo a farvi vedere queste possibilità di ripristino di Apsure e come vedete sono alla portata di qualunque tecnico perché basta schiacciare un paio di pulsanti. Adesso come promesso andiamo a vedere, ho visto che è arrivata qualche domanda, Mirko dice il live recovery è valido solo per ripristino sullo stesso server originale? Dunque la risposta è no, il live recovery è necessario, o meglio scusate il live recovery funziona se c'è un agente su quella macchina, cosa vuol dire? Vuol dire che se tu fai un bare meta restore partendo da un CD di boot in cui non hai più niente, neanche il disco C, non può funzionare il live restore perché su quella macchina non c'è niente. In situazioni di questo tipo quello che è consigliabile fare, se stai facendo un restore completo su un'altra macchina o in ambiente virtuale è di ripristinare solo il disco C, così la macchina riparte col sistema operativo e con l'agente e a quel punto far fare un live restore, un live recovery della partizione D. se ci fosse stato il database di SQL Server, allora che cosa succedeva se c'era SQL Server? Allora ti invito a fare dei test precisi e puntuali, però il sistema funziona anche con Exchange e SQL Server, per cui vi invito voi stessi a fare dei test per verificare che il sistema funziona. Quindi mi serve una macchina server dedicata per installare questo programma, dice Paolo. La risposta è sì, cioè serve una macchina che funga da server, cioè da ricettore di tutti questi snapshot. Questa macchina server in realtà è molto flessibile perché potrebbe essere sia una macchina virtuale, se avete un sistema virtuale basta agganciarla, sia potrebbe essere, a seconda di quello che andate a backupare, magari una macchina Windows 7 con 8 o 16 giga, quindi un desktop che non costa molto, oppure se dovete salvare un basso numero di macchine potreste per esempio scegliere delle soluzioni tipo gli HP microserver, che sono dei serverini dell'HP che fanno sia da NAS sia da server, ci montate sopra un Windows Foundation e avete allo stesso prezzo accessibile sia una macchina che regge il server di App Assure, sia una macchina che regge i backup degli utenti. Paolo chiede se l'agent funziona sia su macchine fisiche che virtuali, è corretto Paolo e questo può, anzi è uno dei vantaggi principali di App Assure, perché tu hai un unico sistema che gira indifferentemente su qualunque macchina e quindi come costo di gestione hai un unico sistema per i client, per i server, per i desktop, per macchine fisiche e macchine virtuali. La domanda è se stessa puoi avere l'agent? Cioè la macchina core dove gira App Assure server? La risposta è sì, però se la tua domanda viene dal fatto che vuoi avere un backup del backup, ho due risposte diverse. La prima risposta è che il backup di App Assure finisce con una cartella, che potrebbe essere anche una cartella di rete, quindi ti basta copiare quella cartella, e la seconda cosa è che è integrato in App Assure un sistema di replica, quindi basta mettere un altro server di App Assure, che è gratis, non costa niente il server di App Assure, sulla stessa rete o in una rete remota e fai parlare due server per scambiarsi i dati. Quindi è molto efficace questo. C'è qualche altro dubbio, qualche altra domanda? L'unica cosa che mi sento di raccomandare è di dedicare memoria RAM come se piovesse alla macchina server di App Assure. Naturalmente, se dovete backupare solo uno o due server, non serve tantissima memoria, ma in caso contrario vi consiglio caldamente di non lesinare sulla memoria. Aspetto ancora qualche secondo se qualcuno ha delle altre domande. Se invece non ci sono delle domande, mi avvirei verso la conclusione, ringraziandovi per questa mezz'oretta che abbiamo passato assieme. Ecco Flavio che arriva col supporto per Oracle, non c'è un supporto ufficiale certificato per Oracle, ma abbiamo diversi clienti che lo usano con Oracle. Aggiungo l'unica cosa che ho imparato su Oracle perché l'Oracle ha anche una modalità di lavoro che permette di fare degli export regolari come file su disco dei suoi dati. Ecco, in quel caso l'installazione di Oracle con App Assure è molto sicura e molto protetta. Risposta per Paolo che chiede se il costo va ad agent. Fondamentalmente il costo va ad agent, cioè a macchine protette, anche se poi ci sono alcune differenze perché per esempio in ambiente virtuale si va a parlare di host e non più di agente protetto. Però diciamo che per macchine fisiche si va a parlare di macchine da proteggere, quindi di agenti. Allora se non ci sono altre domande, io vi ringrazio nuovamente per essere stati con noi in questa mezz'oretta, vi invito tutti a provare a lavorare con App Assure perché la vita da sistemista cambia veramente e se avete domande siamo sempre raggiungibili tramite l'indirizzo email sales-hbit per questioni commerciali, supporto-hbit per questioni tecniche o telefonicamente allo 02-5410-8204. Vi ringrazio ancora, vi auguro buon proseguimento di giornata e buon fine settimana visto che siamo a venerdì. Ancora un ringraziamento e ciao a tutti.